Ottavo risultato utile di fila, ma vistoso passo indietro. La Carrarese fa un figurone, in pieno recupero sfiora il colpaccio. Le avversarie che utilizzano il trequartista mettono spesso in difficoltà Biancazzurri. È accaduto anche contro l'undici Toscano. Squadra solida, appena tre gol subiti nelle ultime dieci gare, soprattutto organizzata. Il Pescara ha giocato una partita sotto ritmo, senza intensità, negli ultimi 30 metri manovra prevedibile. Fatto eccezione per il gol di Pompetti, figlio di un infortunio evidente del portiere ospite Vettorel, e per uno spunto di Cernigoi, la squadra di Auteri non è stata mai pericolosa. Merito senza alcun dubbio della Carrarese, capace di imbrigliare con personalità Biancazzurri senza mai rinunciare. L'identità dei Toscani è chiara, assai meno quella del Pescara, decisamente al di sotto delle aspettative. Sbagliato l'approccio, ma anche l'inizio del secondo tempo, il vantaggio maturato nei minuti finali della prima frazione, non sortisce la scossa o spiccata. Anche l'avvio di ripresa è di marca ospite, decisivo Sorrentino su Petrelli, che però al tredicesimo punisce con un delizioso tocco l'estremo pescarese, una rete evitabilissima. Quando infatti il portiere ospite Vettorel riavvia l'azione, cinque Biancazzurri, Nzita, Ferrari, Rauti, Clemenza e Zappella sono girati, si disinteressano. Atteggiamento totalmente errato, di conseguenza squadra scoperta, mancano le coperture preventive, più o meno una costante, e la Carrarese ne approfitta. Sulla verticalizzazione di Battistella, sporcata da Veroli, Energe rifinisce per Petrelli, che pareggia i conti. Errore altresì di Janes, che segue il taglio dell'esterno toscano controllato da Ingrosso e dimentica l'autore del gol. Purtuttavia le distanze dal terzo posto restano inalterate, meno cinque dal Cesena bloccato in casa dalla Lucchese, ma rimane l'istantanea di un Pescara deludente.